...dia rompe il pugno a faccia, faccio così lo toco, pam, lui apre gli occhi e qui io attivo il pugno, ok? Con il strangulamento lui può subito aprire gli occhi e fare la tecnica. Cosa voglio che fate? Quello che sta lì, in rete gli occhi, esercizio mentale, non pensate della difesa, non pensate di qui, non pensate di lei che sta facendo le foto, non pensate di niente, pensate del fatto che domani compilano io e dovrete finireci partiti, ok? Quando sentite l'attacco, il primo pensiero, che tipo di attacco è? Se il strangulamento, intanto uno spinto è la colla, ok? Penso questo, carce dentro, spalzo, spalzo, guardo dietro e vado via, ok? Se hai un pugno, il primo pugno lo prendo, in realtà prendete sicuramente il primo pugno perché è molto difficile di agire subito, poi vedete arrivare ad un angolo che lo vedete, prendete il primo pugno, apri gli occhi, guardate, difesa l'attacco, ok? Quando fate l'attacco, su, giù, su, giù, non sempre il stesso punto perché l'aggressore inizia a coprire, ok? In copia, in ultimo.